Oggi fa uno stop, riprenderemo poi il giro tra le società minori del rugby toscano ma facciamo un punto su chi sa tutto del rugby dalla Serie C, Serie B, Serie A giocatore di rugby, conosce il Pro 14, conosce tutto quello che succede, il top 10 Pietro Gusso Buon pomeriggio a tutti, a te Paolo e soprattutto un saluto anche a Stefano Ballerini che ha dato la possibilità di venire qui in studio Comunque se abbiamo tante, un po' di notizie per quanto riguarda Settima, dimmi una cosa, visto che tu vesti la maglia del Firenze 1931 Avete ripreso gli allenamenti Hanno bisogno di preso gli allenamenti, esattamente Non di contatto ma stiamo facendo alcuni allenamenti così di rugby touch Ovviamente sapendo già che sappiamo che siamo in giallo e quindi la possibilità di fare rugby con il contatto C'è ma riprenderemo chiaramente dopo verso la preparazione, verso settembre Insomma, quindi per ora Proprio che partiranno i campionati Esatto Senti ma alla meta di Karel Graff ieri? Tanta roba Tanta roba sicuramente Devo dirti che il mio cuore di giornalista che ha seguito sempre me dice Mi sono anche un po' commosso Pietro Quali sono state le tue impressioni? Quel pick and go in cui Karel ha fatto Valerì Tutta la sua esclusiva forza Insomma, si vede che Karel Graff chiaramente non è un nuovo arrivato Tanto che è un Africans Insomma, è uno che nel rugby chiaramente sa quello Sa la possibilità ma anche la tecnica del numero 8 Che è veramente uno molto molto forte Che insomma ha dimostrato anche di giocare con Non di giocare a deteriorare con gli springbox Ma delle sezioni che insomma hanno fatto Comunque però Karel Graff Insomma, è un grandissimo giocatore Che poi giocavano ieri al Battaglini di Rovigo Esatto, perché insomma due Prima alla Argos Arena Una delle due semiferae Dei due semiferae di ritorno Una Petalaca Padova Che ha vinto Ha perso ma ha vinto Nel computo delle due partite Andate a ritorno Aveva vinto al Mirabello di Reggio Emilia Contro il Valoregbi Valoregbi due gioca con un altro nostro amico Dan Newton Beh direi, abbastanza portate Dan Newton Esatto, che è Sarebbe stato bello vedere Dan Newton Anche Fusco per il resto Che ha giocato un anno a Firenze Sarebbe stato bello vedere Dan contro Karel Eh sì, sarebbe tanta roba Comunque diciamo che nel computo totale Tra la suite e l'antate e il ritorno Nell'andata al Mirabella Il Petalaca ha vinto 16 a 27 Col conteggio invece di quella Nella partita di ritorno Invece 23 a 24 Quindi facendo il totale È 50 a 40 Quindi per Petalaca Padova Invece per quanto riguarda Calvisano e Rovigo Ha vinto Rovigo per 39 a 37 Quindi due punti di differenza E la finale sarà al Battaglini Tra Argo e Petasca Sarà a Padova credo Sarà a Padova Sì Tra Rovigo e Non so se la giocheranno Io credo che la giochino al Memo Jeremia Gli impianti Memo Jeremia Non credo giochino all'Euganeo Comunque si gioca a Padova Sì, a Padova Alle 17.50 Ovviamente sempre all'interetto Su Rai Sport Però con una cosa importante Che la data è molto importante Che insomma Come sappiamo abbastanza bene Quando è stata programmata La Repubblica Per il 2 giugno Che sarà Alle 17.50 Lei c'era il 2 giugno del 46? Io ancora Avevo 50 anni Prima di nascere Prima in qualche modo Però comunque insomma Senti Pietro Avendo celebrato Il Le gesta Dei nostri Dei nostri amici Dan e Karel Facciamo anche un punto Perché tu avrai visto La finale della Challenge Tra Leicester E la squadra francese E poi la finale Del Pro 14 L'Heinigan Dell'Heinigan Cup Tra due squadre francesi Naturalmente Lo state Toulousain Lo state Toulousain Esatto Che ha vinto E la squadra Delle Stato Quelle Che sarebbe La Rochelle Della Rochelle Mentre l'Ester Vabbè battuto Biarritz Che rugby Hai visto? Allora Io ti dico la verità Per quanto riguarda La partita Tra Toulousain E la Rochelle Ricordiamo che Fino a 22.17 Il primo tempo È stato molto Molto tattico Con un cartellino rosso Per la Rochelle Per un placaggio alto Che Diciamo Dal punto di vista Della Della disciplina E tutto Diciamo che Tra la Rochelle Coso E Stato Toulousain Insomma C'è stata Abbastanza battaglia Tecnica Ovviamente Sto parlando Nel secondo tempo Invece Stato Toulousain Ha dato più Una qualità di gioco Molto importante Tra Sia la misca ordinata Che la misca chiusa Quindi ovviamente È stata Non una partita Spettacolare Però una partita Molto intensa E molto Molto Aggradevole Vedere Insomma Soprattutto Ma Con una cosa Molto importante Per quanto riguarda Due giocatori Che Giorno Perché Anche lui Il padre Era numero 10 Come il figlio Esatto Invece Per quanto riguarda Lesser Tigers E Montpellier Che Quindi Una squadra inglese E la squadra francese È stata parecchio Equilibrata Diciamo Come partita Anche lì chiaramente Dal punto di vista Del livello Della qualità di gioco Non è stata granché Purtroppo Bisogna dirlo Anche se Insomma Si può dire che Insomma Facendo un po' Il confronto La caccia Il rugby Insomma È un po' Diversa Di cose Ma comunque Però Insomma È stata anche Molto Molto Equilibrata Anche la Montpellier Coso Lesser Tigers Comunque Una cosa importante Paolo Che non sa Che forse Sai te Ma non sanno I nostri tre spettatori Che hanno Tutte e due giocate Non al velodrome Di Marsiglia Ma al Twickenham Quindi davanti a 10.000 spettatori Sia Venerdì sera Tra lesser Tigers E Montpellier E invece anche tra St-Rosell E la Rochelle Che è sabato Il sabato Corso Insomma Sono state due partite Bellissime Certamente Guardando le partite È un paragone Assurdo Tra il nostro Campionato E queste partite Vediamo un'intensità Diversa Un'uscita di palla Diversa Non me ne vogliano I ragazzi Perché ognuno Deve avere le proprie Caratteristiche Ovviamente Però Sembrano Di un sport Diversi Beh diciamo Che per quanto riguarda Se noi capiamo Abbastanza bene Che Ricordiamo che Sono Tre Quattro e quarti Di squadre Che sono Qualificate Se non Qualificate Ma Che sono Che sono Andate alla finale Sono francesi Quindi capendo abbastanza bene Quanto a livello Tecnico Tra il rugby francese Che Insomma Tre squadre su quattro Che non è poco Aspetta Le quattro squadre italiane Che sono appunto Calvisano Rovigo Rugby Emilia E Un'altra Almeno domani Petrarcavato Petrarcavato Esatto Si vede insomma Una grandissima Qualità Ma perché Questa grandissima qualità Di gioco Tra il breakdown A tutte le cose Che se Tra le cose tecniche Che Vi ho già detto Altre volte Però Anche il fatto Da punta di vista Di una Una parte importante Che è il rugby base Che già in Francia In rugby base È già 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 stata Già iniziata Da Da rugby bambini Quindi questo Lo sviluppo Quello che dice Pietro Ascoltatelo Perché è un discorso Molto importante La base Partire dagli under 6 Vai che All'under 6 Perché Perché Anche il percorso Che hai fatto te No? Si Io veramente Si però Ho fatto più Prima di partire Prima di partire Dal rugby Dallante il 14 Iniziale Un po' dopo Però comunque Il discorso È anche importante Perché Il passaggio Che fa Dalli juniors Quindi da Under 16 Under 12 Under 16 Under 14 Under 16 Under 18 Via via Tutte le altre Questa è una cosa Molto importante Che anche sia Da manche Che più poi Non hanno fatto Nelle due squadre Sotanto da Sant'Erusen Andrata in una grande squadra Però Nella giovanile Hanno stati anche Campioni del mondo Nel 2019 Con Con la Francia Quindi ovviamente Non è che Campionato del mondo Si svolse in Argentina Se non sbaglio Sì in Argentina L'Under 18 L'Under 20 Mi sembra L'Under 20 In Francia Mi sembra Non male Ma allora Sono stati Campioni del mondo Anche in Under 18 Quindi ok C'è stato un percorso Che ha portato Francia Che però Nonostante questa Grande forza Di questi ragazzi Li ha portati A giocare Un 6 nazioni Dove Sono stati sconfitti Dall'Inghilterra Sono stati sconfitti Dalla Scozia Esatto E credo anche Dal Galles Sì anche dal Galles Sì E quindi Hanno battuto Irlanda e Italia Praticamente Praticamente Sì Italia Sicuramente Perché Giocando Giocando Pur giocando Non tanto bene Però comunque Avendo la Francia Un rugby champagne Molto bello Da vedersi Però ancora Ma sicuramente Questi ragazzi Avranno modo Di affinare Le loro conoscenze Di rugby Uno su tutti Aldrich Che sta diventando Di una forza Assoluta Crescendo Io credo Che nel prossimo mondiale Francia E Nuova Zelanda Saranno proprio Nel gruppo Dell'Italia Sì Esatto Credo Guarda Che poi Sudafrica Credo che Potremmo vedere Anche nel Torneo Quasi una finale Anticipata Nuova Zelanda Francia Allora Diciamo che È una delle partite Molto importante Che riguarda Il nostro girono Esatto Con Ora Diciamo che Poi bisogna capire Un attimo In base alle qualificazioni Che faranno Nella American Champions Cup Che sarebbe Una specie di Campionato americano Tra le squadre Sia Canada Stati Uniti U6 Canada Più anche Le altre Squadre Anche del centro Centro America Domenica Però di solito Sono Stati Uniti Il Canada Che noi abbiamo Incontrato Nelle varie mondiali Il Canada L'ultimo Nel 2019 Nel 2019 In Giappone Abbiamo trovato Il Canada Che era stato Anche allenato Da quel Kieran Crowley Che è il nuovo Allenatore Nella Nazionale Azzurra Esattamente Io ti dico una cosa Io di Crowley Ti dico abilità Ora Credo Che Spero Che faccio Un lavoro Non dico migliore Aspetto a quello Che ha fatto Franco Smith Però Credo che Possa fare Un Non so dire Uno Step Forse migliore Di Franco Smith Che purtroppo Come abbiamo visto Nelle nazioni Non ha dato Una grandissima Dimostrazione Ha pagato un po' La pressione Franco Smith Secondo me Sì Perché Ovviamente Il fatto è che Quando te sei Quando Ovviamente Come si è detto Anche nella diretta Qualche tempo Quando siamo visti Qualche tempo fa Si è detto Che la pressione Che ha è diversa Tra una squadra Di club Che è la Benetton Treviso Che ha allenato Per cinque anni Se non erro E Allenare nazionale Ora Diciamo che Da un punto di vista Anche sia comunicativo Che da anche Ad altri punti di vista Non è che sia Non è che sia Proprio La cosa più facile Di questo mondo Quindi Ovviamente C'è grandissima persone Senti Pietro Tu A scuola Girando Con i tuoi amici Non del rugby Sicuramente Avrai avuto modo Poi ti occupi Di tanti sport Di parlare Soprattutto Di calcio Sì Assolutamente Quante persone Hai trovato Tra le tue amicizie A Firenze La scuola Gli amici extra Che parlavano di rugby Allora Ti dico la verità Per quanto riguarda Quelli che giocavano Nel rugby No no Quelli che non giocano A rugby Che non vengono al campo Cioè Sei andato a scuola Con quanti hai parlato Di rugby In classe tua Ti dico la verità Pochi Non sai perché Ti ho fatto sta domanda Perché Perché Giustamente Noi diciamo sempre L'Italia non cresce L'Italia non cresce Vero Vero Purtroppo è vero Sì Però è anche vero Se tu vai in Galles E trovi Cento bambini Per la strada Pallano più il rugby Che caccia E butti un pallone Ci sta che 70 bambini Questo pallone Lo prendano con le mani E cominciano a correre Eh sì Se vai in Francia Può essere 50 e 50 Se vai in Inghilterra 50 e 50 Chiaramente Se butti un pallone Da 100 bambini In Italia Veneto a parte Io credo Che il 95 Prendano il pallone Con i piedi Questo per dirti Che la diffusione Del rugby La diffusione E la forza del rugby L'abbiamo anche Dalla capacità Di scelta Che abbiamo In una nazione Sì È vero Però diciamo Che Diciamo Come diceva Anche Munari Qualche tempo fa Diceva Che il rugby Professionistico Ancora giovane C'ha 26 anni Perché è nato Dopo il 95 Del mondiale In Sudafrica Vinto anche Dalla Sudafrica Contro La Nuova Zelanda Questo è da cui Il film Invictus Esattamente Con cui Esatto Io credo Che per quanto riguarda Il fatto che Sudafrica Che ti dico Con l'avorto Sudafrica Perché Sembra Che Non mi sono Appuntato Nulla Tutto Praticamente Perché Ci sono Già state Dette Le partite Che sono Fatte Del rugby Championship Ma Prima del rugby Championship C'era un appuntamento Molto importante Che Ho detto Anche qualche Tempo fa Con Ibridici Da Rich Lions Il Tournet Che Muove Un pubblico Incredibile Si Ricorda Chi sono I British Ed Allora British Alice Lions Sono Una squadra Un'agglomerata Fondamentalmente Tra Una selezione Tra La Gran Bretagna Tra l'Inghilterra La Scozza Il Galles Il Galles E Irlanda E sono Già state Fatte Le Convocazioni Qualche Tempo Fa Con Ricordiamo L'allenatore Che sarà Gatland Warren Gatland Ex Giocatore Anche Nezzerlandese Anche Da Nazionale Assolutamente Ex Ex Allenatore Del Galles Assolutamente Esatto Il capitano Sa Alvin In Per Quali Motivo Perché Quello Che Ha detto Perché Sentando Anche L'intervista Che Fatto Qualche Tempo Fa Con Molla Il Fatto Che Lui Qualche Modo Sia Il Record Di Presenze Non solo A livello Internazionale Gallese Ma A livello Internazionale Quello Con più Presenze Nazionali Che Secondo Riccimekoso E Terzo Parise Bravo Parise Diciamo Che Questa La Caratteristica Di Quanto Lui Sia Un Leader In Campo Quindi Il Fatto Che Lui Sia 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 La Mischia Perché Stando Che Gioco La Seconda Linea Non Fa Il Grito Non Fa Il Gallese Gallese Punti Vista Che Della Tusche Perché Quello Che Lui Guida La Tusche Cioè Lui E Sia Sia Allora La Tusche Sarebbe La Rimessa E Fano Laterale Esatto Esatto In cui Sono Sette Persone Sette In cui Uno Sceglie Quante Persone In cui Chi Batte La Tusche Fa Decidere Quanti Sono Esattamente Però Chiaramente Quello Che Chiama La Rimessa Non È Il Tallonatore Ma È Il Risceditore Che Potrebbe Essere O La Seconda Linea Il Numero 4 Numero 5 Numero 6 Numero 7 Numero 8 Perché Numero 8 Perché Sette Votta Anche Numero 8 Può Avere Non Non Quasi Sempre Però Se C'è Anche La Possibilità Di Essere Bravo Sul Terzo Blocco Perché Ricordiamo Una Cosa Un Ponto Importante Dello Schema Di Sul Primo Giocatore Che Di Sotto Un Pilone Esatto E Però Può Farlo Dentro Tra La Linea Del Danale E 5 Metri Questo diverso tecnico su un diverso modo di giocare non con il pro 14 perché hanno un loro modo di giocare da mettere 14 cioè con diciamo che sono benetton zebra e quegli altri 12 squadre che sono 12 realtà sono ora sono 16 perché sono 12 che sono 10 delle delle quattro squadre delle cinque squadre di ogni di ogni franchice insomma di ogni federazione ma c'è stato aggiunte non con star kings e citas e che sono raggiunti di qualche anno fa ma è stato pensato e quattro ovvero storm blues lions e gli ultimi attivati di qual è il rezzo bravissimo no noi ragazzi giocano nel andrews allora ma mai a vedere chi sono allora qui perché tanto sono qua te lo dico allora comunque c'è una cosa importante su se nazioni che devo dissi poi ce lo dici allora dov'è sempre pieno di fogli il nostro pietro si segna tutto allora con stormers ecco gli stormers sono stormers sharks lions e coso lions e bulls quindi sono le quattro squadre che fanno parte del della contro le squadre sudafricane che giocano giocano in europa praticamente viene tagliato non l'emisfero nord sud ma est o ovest volevi dire nel se nazioni pietro sì perché se nazioni hanno già detto anche se nazioni under 20 che come sappiamo abbastanza bene non si è giocato nel periodo delle se nazioni signores ma la cosa molto molto particolare che mentre si è giocato quello delle donne con anche delle belle soddisfazioni da parte della nostra nazionale azzurra che ha vinto di scozia di gian domenico bravo ricordiamolo sempre un accompagnatore il nostro amico riccardo buonaccorsi rieletto esatto ospiti la settimana scorsa presidente del comitato regionale toscano quindi rieletto riccardo allora abbiamo già il l'elenco perché abbiamo ecco prima l'elenco te lo dico perché tanto per quanto per quanto riguarda l'italia per quanto la data le nazioni ce ne può anche non vabbè comunque te lo dico stesso comunque l'italia giocherà il la prima giornata il 19 si giocheranno tutte davanti da dove a cardiff e ma è quale stadio si sarebbe giocato all arms park no allora si giocheranno all arms park perché se te te sai non è che c'è qualche stadio lì piscina che uno del cos'ha dei tempi del regno mondiale è esatto il principale di stadium salino il principale di stadium quello che si chiude il terreno se piessessi il terreno si chiude il tetto se piove sì esatto io non sono d'accordo beh sai sono un po scelte io dico sinceramente come tipo a come io credo il fatto di come mettere tipo un tetto sull'olimpico è difficile secondo me a punto di vista che secondo me ci sono degli sport veramente con tennis per forza se no non giochi quindi la cosa si chiude lì però ci sono degli sport che giocati con la pioggia o senza pioggia naturalmente fa tutta la differenza del mondo trovare un terreno vicino un terreno magnato tu sai gli skills che sarebbero fondamentali come tenere la palla se non fare in avanti oppure un calcio che l'erba può farci lavorare via un placcaggio sulle basce scivolose è tutta altra cosa secondo me la variabile del terreno dovuta alla pioggia o meno secondo me andrebbe lasciata quando si chiude il il diciamo il tetto il tetto si va a giocare una sorta di rugby indoor sì 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 che poi è successo anche nel durante se nazionale tante sanatone squimi del di quest'anno no perché hanno dato quasi sempre a sembra a knackley anche a bambini si asicare a nendis che del che fa parte di scalets accetto di scalets esatto però comunque si diciamo che comunque tornando al discorso da anderminti perché parla di tanto giocherà il 19 giugno contro il galles a che sarà la battita in augurale in augurale comunque non sarà la partita in augurale si è messa tra scozia irlanda sempre nella bola di card perché ricordiamo una cosa che non ci sono delle che si va come è successo nelle se nazioni signores tra nati che sembra sia luglio allora sono il 19 di giugno poi la seconda sarà il 25 di giugno la terza sarà il primo di luglio la quarta sarà le 7 di luglio e l'ultima sarà il 13 di luglio quindi può per dare un po alcune date e soprattutto una cosa importante che potrebbe essere importante per la francia ricordando anche la festa dell'indipendenza della presa della bastiglia no e 14 luglio quindi nella vigilia quindi la francia potrebbe festeggiare perché la francia è indubbiamente a livello di fantasia a livello di gioco spumeggiante a livello di rugby champagne come si so dire ha dimostrato di essere una squadra di categoria superiore a tutte poi il rugby non è solo attacco ma c'è anche la difesa c'è anche fisicità particolarmente importante ci sono come dicevi giustamente te delle situazioni tali performanti in cui il fisico e l'esperienza si fanno sentire tutto e ancora il 15 del galletto è un pochino latitante ma arriveranno pietro io ti dico verità che il fatto quello di prima che un po di inesperienza si è stata soprattutto per la vita del galle spera non con del galles ma con di gare se ne classifica perché cannes ricordiamo non ha giocato il giorno prima però nel recupero hanno fatto contro il galles alla scuola mi sembra era il fatto che in alcuni particolari abbiano ci stata più una differenza più belle scuola che la squadra più esperta no chiaramente ha vinto la squadra più più anziana il galles i galles esatto questi quindi termini dici che la grino verso con altri altri ma chi no chi sarà ma chi ci sarà anche lui nel 2023 quando ovviamente ospederanno c'è il mondiale il loro mondiale esatto questi ragazzi devono essere pronti non oggi non domani ma per il 2023 oppure anche forse anche per 2027 un po più allungare un po e la siccella se dove 2027 ci sono sei anni sono ragazzi 1 22 anni certo a 28 insomma abbiamo una francia competitiva per un doppio quasi un doppio quadriennio sì esatto anche se nazionalmente non giocare parecchie se nazioni non giocare quindi ovviamente ancora se nazioni c'è tutti gli anni esatto quindi comunque una cosa importante sono anche stati fatte le cose le date anche dei test match internazionali di questo estate come sappiamo e purtroppo sappiamo abbastanza bene che l'italia non parteciperà al tour con l'all blacks che sì lì giustamente devo venire incontro anche a quello che ha detto riccardo buonaccorsi ci ha detto si spendevano tanti soldi per portare ragazzi in nuova zelanda con tutto lo staff andava in giù a nuova zelanda la bolla situazioni molto particolari ancora il covid correvi il rischio di giocare due partite con nuova zelanda prendere due stese che avrebbero secondo me fatto ancora più male al nostro deleritto rugby nostrano quindi però bisognerebbe organizzare un amichevole un test match ti dico con la romania con la russia con la giorgia con squadre più alla nostra portata perché sennò passa il messaggio voi siete i rugby quelli che perdono sempre purtroppo è un po questo è questo è vero purtroppo è che non il fatto che non questo però una cosa importante dà con una grande importanza a a miglior nozio a migliorare quello spero che tra l'anno ma tra l'anno azienda scusami tra la benetton treviso e le zeber ci siano un po la possibilità di migliorare anche e di dalla possibilità anche ai ragazzi giovani che chiaramente ci sono tantissimi ragazzi giovani che bisogna dire che sono pochi abbastanza però di dalla possibilità che di farli giocare anche nei prossimi anni anche in nazionale quindi io credo che il fatto che questo lato di non andare in nuova zelanda secondo me da un punto di vista tecnico da una grande dimostrazione di non di essere deboli perché a me questo è il fatto di essere deboli perché è vero che nuova zelanda ha perso anche due partite quest'anno quindi non è l'anno scorso quindi non è che questo è il fatto che ha perso l'argentina e ne ha perso un'altra con l'usafrica o con l'australia siamo contro l'australia però discorso vedi il discorso fondamentalmente è questo dice l'italia perde sempre è vero anche che l'italia gioca con le squadre più forti e come io faccio un paragone è come se una squadra non fortissima mettiamo la nostra fiorentina va a giocare contro il real madrid il pari san germain il manchester city il baier monaco è chiaro che se fanno un torneo la fiorentina le perderà tutte al di là che il calcio è diverso dal regno perché il calcio è un gioco il regno uno sport dove ci siamo meritocratici il più forti dice quasi sempre l'italia si ci metta con questi squadroni ed è chiaro che viene da 25 26 sconfitte consecutive purtroppo sa che fosse anche 30 ma non di male più di 25 insomma siamo e comunque sono abbastanza purtroppo sono numeri che che devono fare abbastanza che io credo che sicuramente invece con innocenti io penso che credo che con gavazzi è vero che poi l'ha detto anche lui l'altra volta nelle nella presentazione di crue lei abbia di abbiano centi innocenti di quando ha dato quando è stato la condotta presentato cruelly aveva fatto anche complimenti no però ha fatto anche il parlato anche di gavazzi che negli ultimi periodi non stava molto bene così si ha dato un colpo al cerchio un colpo alla botte perché parlando con franco smith cosa ha detto ha detto non vorrò mai più vedere un allenatore della nazionale lasciato su esatto questo e quindi questa dovi ti fa capire abbastanza bene che a livello comunicativo con innocenti la fir credo che sia abbastanza non so se è notato allora le semifinali del top 10 e la finale vengono a terra e sport sì esatto sul giornale sul quotidiano più diffuso italiano la gazzetta dello sport interviste e servizi sul rugby quindi a livello comunicazione si sta facendo dei passi nettamente avanti sì oddio farli indietro è praticamente possibile perché non se ne parlava non ne parlava nessuno esatto comunque per quanto riguarda di con qualcuno le date per quanto riguarda i test match internazionali che ovviamente sono le squadre alcune europee e alcune squadre che sono che alcuni che faranno anche rugby championship che potrebbe svolgere anche dopo anche test match che saranno allora sud africa georgia il 3 luglio irlanda giappone che anche giappone dal punto di vista tecnico si è visto anche nello scorso mondiale in casa loro hanno un'azione che fa della disciplina e del rispetto delle delle regole che debbi e lo sport per antonomasia numero uno poi hanno preso dei professionisti cominciando dagli old blacks veri fortissimi pagati profumatamente il giappone ha avuto questa escalation esattamente ma non solo solo perché hanno preso però comunque perché c'è anche una di una cosa di fondo che chiaramente insomma il fatto è rispetto anche delle per degli avversari e tutto quindi questo già per il giapponese insomma non è se conosce le regole se gli da un incarico se gli dai un ruolo lo sa svolgere perfettamente fino al fondo se poi al giapponese dai anche l'esempio di quelli bravi diventa una squadra forte abbattuto il sudafrica se ti ricordi nel 2015 esatto nel mio 15 esatto e quello chiaramente ora ora non è che dopo quella sconfitto quella scrittoria lì diceva che sudafrica è vulnerabile che chiaramente quando avesse vinto contro sudafrica per 22 19 vado a memoria sì mi ricordo che era 18 novembre 2016 a firenze bravissimo esatto con 25 mila persone che erano tutte quasi è vero anche che era un sudafrica pieno di difficoltà per la storia delle quote dei neri dell'africa degli indigeni del sud africa che dovevano giocare non erano all'altezza di giocare in una grande nazionale l'italia è stata brava a approfittarne e poi dopo dopo l'anno d'anno dopo c'è il netest match autunnali dopo si è vista anche un po' di differenza quando loro mi sono saliti alla ribalta questi grandi giocatori uno su tutti tutti mi domandano paolo ma te che sei un giornalista sportivo chi vorresti intervistare beh io vorrei intervistare sisi e colisi che è il capitano degli spring box allora io ti posso dire che si potesse anche intervistare anche per il discorso sociale ha esatto il fatto di anche di ecco però questa cosa mi ha dato un po' un'idea che un quale un quale insomma a questo traffico del 95 quando c'erano metà metà di colore metà neri e non quell'altra parola ciali ma metà di colore e metà bianchi neri no 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 sì no ma quel lato è un po' più spregiativa che non voglio dire che sinceramente è più spregiativa è più spregiativa da tradotta dallo statunitense che è proprio offensiva qui prende dal latino quindi senza stare a sdoganare il negro nel latino nige nigra nigrum mentre nigger in nell'idioma statunitense è proprio offensivo esattamente esatto ma noi sì c'è stato anche il fatto che questa cosa di corrigio questo perché già il messaggio anche lì che insomma di siamo diversi del 95 in sud africa perché chiaramente davvero che il capitano mi sembra una sua penar e che era da mi sembra africans boehr mi sembra domani pinare sicuramente boehr ricordo che c'era il primo nero a vestire la maglia degli spring box vorrei sbagliarmi fosse stato peters ok anche lì il fatto che non c'è stato chester williams che purtroppo ci ha abbandonato qualche tempo fa sì purtroppo ci ha lasciato anche lui è passato la palla come si sono dire sì purtroppo anche è purtroppo anche da noi sono passati parecchie persone sono la palla esana cut it che è stato anche uno che ha giocato anche molto bene in nazionale tanto bene no ma comunque allenatore anche degli avanti della scozia esatto che poi nel mio 15 appunto come diceva che nel pezzo mente bellissimo del dieci minuti la mente tra scorza italia dice cut ita mi sa che sta soffrendo tantissimo dicendo da murari quindi ovviamente lui è stato un avanti di quella nazionale italiana lui il fratello i due fratelli cut ita che sono stati di quella nazionale con dominguez con vaccari con ti ricorderai julian gardner che poi c'è stato i fratelli bergamasco hanno dato via l'italia nel sei nazioni e che dal punto di vista che tecnico insomma si è fatta anche delle buone partite alcune purtroppo se abbiamo vinto anche due partite in un in un sei nazioni purtroppo non ne vinciamo una francia mi sembra domani pare fosse stato galles 2013 come sembra irlanda l'ultima giornata con l'addio di braio nutrisco le due francia con se avevamo vinto due due di senti senti pietro allora a settembre che comincerete l'attività ti comincerai ad allenare e cosa vetti la tua trasmissione su facebook continuerà ovviamente anche l'estate che parli anche di tanti altri sport ovviamente poi anche di formula 1 che anche se ovviamente voi avete uno spazio anche vostro guarda c'è proprio cisterino pesano con la sua rubrica fughe di gas che sta andando molto bene la segui ti piace si la seguo e comunque sono parlando il formula 1 e anche di modifici ovviamente che insomma la seguo si può seguo sia la trasmissione che ovviamente tutto se qualche formula 1 ma gp tutto sa tutto anzi se una volta non volete chiamare pietro vuol venire avete fatto ti piace la moto gp o la formula 1 è una domanda tutte e due viaggio una delle due diciamo che per quanto riguarda il fatto io penso più la formula 1 perché sono più tantissimi aspetti tecnici però sono anche tantissimi tantissime regole tantissime cose che mette la maggior parte non dei nostri spettatori non vedi però non sa quindi può deve un po capire un po regolamento quindi anche anche delle anche delle ragioni ovviamente è quello di più molto siamo anche di più facile sì comunque già diciamo una cosa prima di chiudere sì anche se va un po secondo tempo abbiamo di chiudere no dimmi di cosa del rugby championship perché perché già ci sono state anche c'è già anche il programma tra la prima che sarà sudafrica argentina sì di i pumas contro gli spring box poi per quanto riguarda l'andata della blazes drop up che la pietro cap ricordiamo è una coppa che mette in palio la nuova 0 che si è assegnata da fine ottocento e 800 esatto che sono tra nuova zelanda e australia per appunto il mio mi sembra della predominio si crede l'inghilteria inghilterra esatto che sarà una a perth in australia in australia e poi al nella capitale a wellington in nuova zelanda wellington non è la capitale però si gioca in nuova zelanda mi sembra wellington è la capitale no è oakland mi sa che invece wellington è capitale mi sembra domani comunque vabbè ora non è per essere proprio ma vabbè andremo andremo a vederli ma senti se covid permettendo si va wellington e oakland si domanda chi è tipo 2 è la capitale no menta poi ti scherzi comunque poi c'è anche l'uova zelanda argentina che giocherà alla d'impacco di oakland che è stata anche non c'è la prima comunque stata anche una delle partite decisive dell'anno scorso del rugby championship poi anche sudafrica australia e anche i pumas contro argentina pumas argentina argentino ma zelda scommi se ti ricordi bene fu anche una partita molto importante per quanto riguarda il 2015 quando si furono fatti i mondiali in inghilterra a manchester nello stadio del magister city il lecce 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 di un quindi e poi ci sono anche quella anche quella partita che fu anche decisiva nel 95 come detto anche in precedenza ovvero non ma tanto sud africa che giocherà a johnny dine in se la famosa dunedini dunedine si bene dalle mesi e poi anche il ritorno sarà anche a aukland ecco in realtà si giocherà sia a aukland che in australia è perché si lì la situazione il covide molto esattamente quindi giocherà in quello in quei due paesi senza fare nelle due bolle sia di canberra c'è un canberra no ma comunque nella bolla australiana e nella bolla nero zelandese senza qualche modo senza andare in sud africa senza andare da una parte dall'altra perché chiaramente sapendo già che la situazione anche sud africa non è proprio messa bene però comunque comunque faccio anche delle cose per quanto riguarda anche il super il super rugby del trans tasman si dirige a che la tasmania serata tasman esatto perché si è giocata la terza giornata e ci sono i crusaders caro mio hanno chai search grass church esattamente hanno fatto diciamo cosa da punti con punteggi comunque di harry che al secondo momento 50 35 13 contro i rebels gli highlanders altra franchigia altra franchigia nazionandese che ha vinto contro western force per 25 a 15 poi i blues altri altri squadre da franchigia ecco franchigia nazionandese che ha vinto contro uguale a tas che è stata allenata anche da john kirwan e blues giochi ma che è stato ex giocatore e gli all blacks però si che mi sembra anche della nazionale che ha giocato anche a padova john kirwan e alla veneto e poi una delle partite anche più belle fu sapere chief secondo momento 30 40 19 però una delle partite molto belle della terza e della seconda giornata è stata quella tra queen sun reds che è una della franchigia australiana contro i crusaders di crossers finita 28 a 63 ma è stata la partita più bella quella della prima giornata ovvero quella tra war a tas e anche di harry casper che è venuta finita con 17 mete che un record diciamo dal punto di vista tecnico a sette mete sono tanta sono ottimi se mamete per la secondo mare per i war a tas e se no scusami 8 metri scommi per lì a me che è sette mete per il normale per i guarda quindi partita abbastanza spettacolare in qualche modo che vita o 48 e 64 quindi per quanto riguarda la confermiamo nella capitale della azienda e wellington come al solito per ragione pietro è esatto allora non pregata mi tantissimo come a miei tempi era un grande poi e poi comunque fosse bene il tempo passa e lo so e basta per tutti comunque perché c'erano anche altre cose a poi c'è solamente prima dei test match coi ditti prima che sono appunto saffica georgia irlanda giappone galles galles canada il 4 il 3 di luglio poi 4 luglio a twickenham il debbi tra le due squadre in qualche modo che sono state nel 1789 quando ci fu l'indipendenza tra inghilterra e stati uniti a twickenham dove hanno giocato appunto le finali che di gare che in centenze anni che in cappe di challenge poi c'è la storia francia e la storia francia che questo anche interessante per quanto riguarda il fatto della storia per quanto riguarda la preparazione al rugby championship e si giocherà a brisbane vedo a nostri identità ho letto qui australia francia brisbane sì perché sono due giorni perché sono due volte che giovano una stessa e poi e poi dopo ancora qui a nuova zona da fiji chiaramente il debbi delle due scuole poi statica georgia poi in inghilterra georgia scusami statica georgia nome ha lavorato a scuole vedere inghilterra georgia che giocherà più i canali poi invece romania scozia giocherà nella arc il detto io di triunfo gli sembra poi francese marco meno che anche la stessa di bucarest poi irlanda stati uniti pensano sarà che la partita nel 2015 quando avevo giocato con cannes sono comunque ad avviva segno poi calles argentina che questo fu e questo anche l'argentina è un tappo fondamentale questo per in preparazione al championship poi c'è il derby questa è una cosa molto importante bellissimo del derby sudamericano sudamericano tra però attenzione perché queste sono è la seconda selezione di pumas di pumitas di pumitas contro l'uruguay che allo stadio charrua di montevideo a charrua si e poi appunto anche un'altra domanda da fisi poi è esatto prima di brisbane e francia e poi insomma giorgia scozia a tbilisi se non mi inganna credo poi calles poi due volte anche galles argentina al principale di segno al mi annunzato di caldo niente pietro prossimamente quando cominceranno verrà a trovarci sapete che la nostra trasmissione adesso volge a temere si si stoppa un pochino dopo la chiusura del del top 10 facciamo il giro delle nostre delle nostre società pietro tornerà a trovarci con ovviamente le sue informazioni con tutte le sue cose pietro io ti ringrazio a te paolo l'appuntamento per quanto riguarda la bambina in mallaca è lunedì prossimo al dalle 17 alle 18 che dire buon regga a tutti buon regga a tutti e soprattutto anche per quanto riguarda la finale di playoff che sia speriamo di goderci un bello spettacolo gradevole e non purtroppo brutto come che sia uno spot per il nostro regga esatto che sia un po di ripartenza ciao a tutti a tutti